Il rito in cui ci ricorda l'istituzione dell'Eucaristia, che Gesù ha istituito il Giovedì Santo, il sacramento che costituisce la fonte e il culmine di tutta la vita della Chiesa. Perché nell'Eucaristia Gesù si rende presente attraverso il pane e il vino, che nella preghiera di consacrazione si trasformano nel corpo e nel sangue della sua persona. Gesù che si dona a ognuno di noi, Gesù che vuole essere accolto da ognuno dei suoi figli, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù nel suo corpo e nel suo sangue che viene a noi. Ma oggi ricordiamo anche il sacramento del sacerdotio, è la festa di tutti noi sacerdoti perché ricordiamo il giorno in cui ci siamo consacrati al Signore e nello stesso tempo ci siamo impegnati a seguirlo sulla via dell'amore. Il sacerdote è colui che serve Cristo nel suo amore, colui che vive il suo ministero pastorale nel servizio per il bene del greggio, del popolo di Dio. Grazie. Grazie.